Benvenuti, vediamo una delle lezioni associate al costruire un esperimento di chimica abbiamo visto in una delle lezioni precedenti come costruire un oggetto sculpted visibile quindi anche con imprudence che facesse questa fiasca questa fiasca nel fattispecie è costituita da due oggetti collegati insieme, linkati uno che è la fiasca e poi modifica uniti è possibile selezionare anche un oggetto interno che vedete che è un tronco di cono quindi per vedere le caratteristiche del tronco di cono vedete che sono già su edit linked o modifica parti unite e poi con control punto sono andato a selezionare il cono interno il cono interno è semplicemente un cilindro che però ha un taper, una vicina lati 0,5 e 0,5 in modo tale da dare questo tronco di cono e poi è stato messo dentro ora l'oggetto, questa fiasca quindi ha tendenzialmente un nome una descrizione che è il nome, questo qui è sale sarebbe la fiasca salazar e questo serve solo per dare un'idea di quello che si può ottenere allora la fiasca cosa succede? qui c'è uno script, cliccando lo script si attiva vedete? e viene generato un effetto di particelle farò poi una serie di video proprio su questi effetti di particelle questo dà l'idea di un composto chimico che sta bollendo insomma se non lo tocco per un tot numero di secondi la fiasca si spegne ignore se invece quando la fiasca è attiva io gli dico ad esempio agita vedete che la fiasca si mette a fare alcuni movimenti e poi posso fargli fare invece dunque posa vuol dire che si rimette al suo punto quindi la riposo oppure semplicemente verso una certa quantità quindi facendo versare vedete che la fiasca si gira e praticamente versa il suo contenuto che quindi viene versato adesso qui l'effetto di particle non è incredibilissimo però comunque è abbastanza già interessante e ragionevole quindi questo qui tutto il tutto viene ottenuto attraverso uno scriptino che legherò il video lo scriptino legato al video è il script chimico per fiasca e questo script vedete che ha all'inizio un colore quindi ad esempio questo qui giallo quindi questa è una terna di numeri r red rosso green verde e blu quindi rosso più verde da giallo poi gli do un time out che può essere 15 secondi dopodichè qui c'è una funzioncina interna che permette di fare l'effetto di mescola e questo viene ottenuto semplicemente generando due posizioni di rotazioni randomiche e poi viene impostata la prima una delle due posizioni randomiche si aspetta un pochino la seconda si aspetta un pochino si torna alla posizione di partenza della fiasca e quindi di conseguenza la fiasca torna alla posizione originale abbiamo un metodino switch off che spegne il sistema di particelle un sistema di particelle invece smoke che fa il fumo che accende il sistema di particelle e uno che lo spegne e poi abbiamo lo script vero e proprio che quando parte in pratica cosa fa da un certo colore al tutto spegne il tutto dice che è stato resettato e poi quando si tocca va a vedere se effettivamente se qualcuno ha toccato o meno se nessuno ha toccato allora fa effettivamente un fumo cioè se il dunque in realtà qui va a verificare se qualcuno aveva già toccato prima quindi spegne o accende gli effetti se non sto a togliare in dettaglio tutto comunque se qualcuno ha effettivamente toccato l'oggetto allora fa il dialogo quindi chiede se si vuole agitare se si vuole dare un centimetro cubo senti elettronico e via discorrendo questo è il timer che una volta che è passato il time out di 15 secondi rimette la fiasca nella posizione di partenza e questo è il pezzo di script che va a implementare le varie opzioni quindi ad esempio agita per tre volte fa un shake cioè praticamente fa tre volte quell'effetto che abbiamo visto prima se invece si sta facendo uno versamento gira la nostra fiasca di 90 gradi pi greca mezzi lo fa si ferma quattro secondi poi rimette la fiasca in posizione originale e poi fa uno toglie lo smoke cioè in realtà ridirige lo smoke il fumo verso un'altra direzione quello che è interessante di questo scrittino è che dà un effetto un po' realistico quindi cliccando si alza quindi se voi avete messo questa fiasca su un scaffale quindi cliccando si alza per far vedere che viene selezionata e poi è possibile dirgli adesso dobbiamo fare agita vedete che fa fa la sequenza di agitamento lo fa tre volte e poi fa questa animazione questa animazione gira verso destra ok questo è un po' il primo video diciamo degli effetti chimici che posso esservi utile combinar tra l'altro questo script con tutto il resto può essere diciamo interessante e lo vedremo poi qui ok Grazie.